Questo video in collaborazione col programma di EA Creator Network di Electronic Arts Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti o bentornati sul mio canale Continua l'avventura di Kiros, al momento Leila diciamo che si è presa una pausa dal Let's Play Mettiamola così, in quel di Tomarang Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto in commenti che ne pensate Con i vostri acquisti nel sito ufficiale di The Sims e nell'app EA potete supportare questo canale utilizzando con i vostri acquisti il codice affiliato Marucco Contribuirete così a supportare il canale e ciò che faccio Detto questo vi lascio il video e buona visione E ragazzi oggi ripartiamo da qui La morte di uno dei protagonisti è stata qualcosa di inaspettato da parte mia Ma ci sta, il Let's Play ha voluto così e noi giocheremo la nostra vita in base agli imprevisti E anche questo è il bello di The Sims E quindi, beh, il nostro Kiros come vedete è tornato da lavoro È andato a raccogliere un po' di cipolline Siamo poveri perché ragazzi in preda alla disperazione ho deciso di acquistare in realtà un po' di libri Ovvero quelli di cucina e quelli di manualità Per andare avanti con la mia carriera e soprattutto perché voglio raggiungere il livello 10 di cucina quanto prima E perché vi starete chiedendo voi? Perché dobbiamo riportare Leila ovviamente fra noi E ho pensato al metodo più difficile su The Sims ma anche quello più soddisfacente L'Ambrosia È da un sacco di tempo che non lo vediamo E quindi è arrivato il momento Lui intanto povero ha un po' di sonno Ma chiederei Dio un po' Eh, intanto qua c'è Anya che fa giustamente un po' di cheerleading Perfetto Manderei il nostro Kiros a dormire ragazzi So più o meno dove reperire tutte le cose che riguardano l'Ambrosia Eh, devo dire in realtà so dove reperirle Quindi va bene Intanto Joan Abbiamo appena finito di traslocare in fondo alla via Passa a farci visita quando vuoi Va bene Probabilmente ci passerò Ci passerò Non ora però eh Ora ragazzi dobbiamo esercitarci tanto sulla cucina Ma proprio tanto Volume 1 Assolutamente Rileggilo Intanto facciamo un po' riposare il nostro Kiros Poverino Ragazzi che pena mi fa sto ragazzo In tutto ciò vedetene in condominio Alcuni usano le cose che ho messo Notare anche Oh la ninfea Guardate un po' come si muove Bella in piscina Vediamo un po' nelle aree comuni Ecco c'è Anya Volendo potremmo chiacchierare con lei Assolutamente Oppure fare altro Fare anche un po' di palestra Magari Insomma C'è da capire Lui intanto ovviamente è triste Perché è rimasto vedovo Ma tant'è Vediamo un po' a che livelli siamo Io continuo a sostenere Che St'espansione è bella In un certo senso Allora Io non ci voglio credere però Cioè signori Eh la piscina era bella Per gli inquilini Che però Non vanno a schiattarci dentro Quindi vuol dire Che devo fare due porzioni di ambrosia Oh bene Eh la moglie Come vedete Se la passa Benissimo eh Lei se la passa Tanto tanto bene Signori è morto suo marito E Beh che dire Signori è A sto punto Datemi la lapide Almeno quella Chiedo per una No mia madre Dov'è finita la lapide di Ovviamente la morte è andata al baboltì Eh a far due passi Ma scusatemi Signori Una domanda di carattere Beh perfetto Con mia suocera Beh si porta avanti Con il lavoro Ma non è quello Beh no Voglio la lapide Voglio la lapide di mio cognato Eh Kiros ha preso la notizia E ovviamente Va a trovare Ania Assolutamente Per capire Cosa è successo E a questo punto Bussiamo E capiamo Do sta la lapide Ma oltre a quello Aspettate Qua non c'è uno spazio Ania dove sta Scusatemi però eh Io vorrei parlare con Ania Eccola qua Assolutamente E qua ragazzi Dobbiamo consolarla In qualche modo Per forza Per forza Lamentele no eh Possiamo fare Chiacchiere E possiamo fare Impara a conoscere E soprattutto Qui Stavo leggendo Dai Chiedi un consiglio Ragazzi Sono consola Per la morte Ragazzi Loro sono rimasti Entrambi Controlla come sta Ania Sono rimasti Entrambi Triggeratissimi Da ciò che è successo Lei è molto triste E questo Li unirà Li farà davvero Avvicinare Perché entrambi Vogliono riportare in vita I rispettivi coniugi E di conseguenza Ci sarà da capire Ci sarà da capire Eh sì Lui è giocoso L'ultima volta Che è stato giocoso Qualcuno ci ha lasciato le penne Però Discuti Altre scelte Amichevole Pensieri profondi Conversazione profonda Non ci voglio credere Ora devo capire Scherzi a parte Dov'è la lapide Di Bill Mi piacerebbe averla Anche solo per collezionismo In qualche modo Non me l'hanno data Nell'inventario Giusto? Neanche nell'inventario Di famiglia Credo Qua intanto Loro si consolano Lei Va a piangere E Kiros Non può farci niente Kiros non può far Davvero niente In realtà È impotente Anche perché Lui stesso Ha subito La stessa sorte In realtà da poco Quindi Quello che può fare È rinchiudersi Quasi a riccio In realtà E non si può fare altro Non si può fare altro Lui va È giocoso Ci so ancora fare Vabbè Kiros Dare un attimo di pathos In realtà Andiamo a casa E via A questo punto Lui va qua Fatemi vedere Il libro Non ce l'ha Che livello siamo Siamo già a livello 3 Di cucina Quindi possiamo fare Un bel apri E qua prenderei Il volume 2 Eh sì ragazzi Questo dovrebbe già funzionare Per quanto riguarda 1 Non ancora Scherzavo Serve ancora il livello 1 Perfetto Dobbiamo leggere Il volume 1 Per arrivare A livello 4 Signori che tristezza Che tristitudine Però La vita è così E non si può far niente Intanto qua sembra Che ci sia lo spirito Di qualcuno Probabilmente di Bill In realtà è proprio L'animazione Della Della Nympha Eh ragazzi Così lo dico Per essere chiaro Qua dobbiamo svuotare Tutto Marcio Qua possiamo Anche Uh Non abbiamo Una roba Qui L'abbiamo sicuramente Quaggiù Perfetto Dicevo Dicevo Qua approfittiamocene Possiamo cucinare Vediamo un po' Qualcosa Qualcosa Possiamo fare Ravioli vegetali Perché no 2 Ci sta formato Festa Così almeno Lo mettiamo in frigo E approfittiamo Anche per continuare La cucina Vai Mangia un po' Prendi una porzione Questo lo metto in frigo Grazie Baccia Che diventare la fidanzata Ovviamente Noi adesso Non abbiamo più Neanche Neanche Purtroppo Pensieri profondi Eh per forza Che hai dell'essere morti No Che hai delle preferenze romantiche Le sappiamo Almeno abbiamo fatto fichi fichi Dai Deve essere i rapporti D'amicizia migliori con Leila Lo facciamo Confessa l'attrazione No Battuta da bordaggio Non mi sembra il caso Interessi Condividi un meme Dai Facciamola un po' Ridere Se anche da ridere C'è niente Però vabbè Uh Ok Guardate l'animazione Lui sta parlando Del meme dell'ama E lei Degli spiritelli Perfetto Qua intanto Usa questo Kiros Intanto nostra moglie Va in giro per il lotto Come giusto che sia Credo Qua Non dobbiamo ancora Far niente Stirpare le erbacce Niente Qua Lui vedendo anche Sua moglie Ancora di più Vuole arrivare all'ambrosia Quindi Lo faccio leggere Come se non ci fosse un domani È giovedì Domani Dovrebbe arrivare Il livello 2 Di giardinaggio Il livello 3 Di manualità Ragazzi E dobbiamo anche affinare La manualità Quanto prima Perché non posso Invitarla Nell'unità familiare Non ne ho idea Non ne ho idea Intanto però Sono giocosi Molto giocoso Eh Datti una calmata Grazie Lo mandiamo a letto Eccesso di rifiuti Rifiuti Uh Sono sotto controllo Sembra che un ibidone Sia sempre pieno Cerca di venire a capo O chiama il proprietario Ah intanto Dobbiamo andare a lavoro Ma qua dobbiamo fare Chiama la raccolta Dei rifiuti Per 200 Vediamo un po' Se qua c'è qualcosa Da fare Ispezioni Qui No Uh eccolo Dove sta Bill Ma Bill L'hanno messo qua Nella sala macchine Ma povero Bill Eh Qua dobbiamo capire Io qua Scusate Ma farei casa Mostro informazioni No Per visitare Eh sì Chiamo il proprietario E dirò a lei Che c'è il problema Dei rifiuti Ovviamente mi devo comportare Non da gestore Ma da fittuario Lo farò quando torno da lavoro Così almeno vado anche A fare un po' di giardinaggio Sperando che Ovviamente Raggiunga il livello 2 Ok Qua puoi fare Raccogli tutto Certo che lo gradisce il giardinaggio Ti prego Dimmi che è arrivato a livello 2 In tutto ciò Manco per niente Innaffiamo Eccola Invita ad entrare Anche se a sonno Ma dobbiamo capire Sta storia dei rifiuti Ragazzi Salve Altre scelte Affitto Lamentati delle condizioni Eh sì Chiedo un'ispezione Uno spazio condiviso Lavandino Ok No Non voglio fare un'ispezione Così Ma voglio capire In realtà Dove sta lei Devo capire Affitto Lamentati delle condizioni E per forza Raghi Guardate un po' Tutti i cestini sono pieni Io mi lamenterei E mi dispiace Racconta le peggiori Barzelletti Immaginabili Eh bisogna capire Cosa succede Perché qua Io non voglio chiamare La raccolta dei rifiuti Scusate Mi voglio lamentare Che di dispezionare Oggetto D'unità Eeeh Qua non c'è niente Fammi vedere Qui Abitativa No Purtroppo va così Eh ci sono i rifiuti Io spero Si sistemi tutto Facciamo una doccia veloce Intanto Qua non abbiamo niente Ma possiamo Prendere una porzione Dovremmo avere già altre cose Povero Chi è che è venuto qua a piangere Oh Sta ispezionando tutto Brava lei Brava lei E speriamo che vada tutto bene Ovviamente stiamo vedendo Vi ricordo Tutto dal punto di vista Dell'affittuario Non del proprietario E quando saremo proprietari noi Allora Tutto cambierà Tutto ciò Noi ridiamo e scherziamo Ma Andrei a fare un bel Cambio abito E andrei di nuovo al mercato Notturno Per cercare Altre piante Da piantare L'ideale ragazzi Sarebbe tipo Prendere che so Il frutto del drago Qualcos'altro Qua abbiamo solo il cibo Qua abbiamo Le merci Vediamo un po' Ci dovrebbe In realtà Far comodo Chiudo alle 2 Adesso alle 21 Ok Qua non c'è nessun altro Che vende Va bene Dicevo Ecco qua Il nostro Kiros Che viene al mercato notturno Che è bellissimo Ragazzi E sinceramente Vorrei prendere Dei semi Beh le carote Le prendiamo Le cipolle Magari no Le patate Vabbè Prendo le carote Grazie Qua lui che fa Vende del cibo Ordina del cibo No Eh vabbè Notare che comunque Tomarang è bella Bella Beh come dire Frequentata eh Però A me interessa adesso Prendere la carotina Grazie Per ora E piantarla E a questo punto Pianterei anche tutto il resto Cioè pianterei delle patate Qua L'importante è fare il giardinaggio Qua farei Un'intera Aiwola Di cipolle Sì Qua farei un'intera Aiwola di patate In realtà non mi interessa Piantare qualcosa Nello specifico Mi interessa ragazzi In realtà Aumentare il giardinaggio Qua posso far così Sì Grazie Così almeno aumentiamo eh E poi innaffiamo tutto Perfetto Bravo Kiros Bravo Kiros Questo ragazzi Può essere utile Dai Anche perché ci serve Per la carriera Quindi Da una parte Lo è Innaffia tutto Bravo Bravo lui E qua In realtà Lascia dell'incenso Lascia un frutto Metti nell'inventario No Qua ragazzi Abbiamo il tempietto Dove far Le nostre offerte Magari Ci viene bene Un buon auspicio Ragazzi Eh Oh Vediamo un po' Che ci dice Lascia dell'incenso E qua ragazzi Ok Vediamo un po' Odore serafico Per aver collocato Quindi ci dà Uno stato morale Felice Ci sta Ci sta Era un gesto Carino da fare Chiama la raccolta Dei rifiuti No Cioè ripeto Io non posso Spendere io Scusate Non lo trovo corretto Tanto lui ha fame Quindi può Venire qua E mangiare Qualcosina Intanto che ci siamo Ok Mangia pure Grazie E poi ti chiedo Di iniziare a leggere La manualità Decisamente Sì Volume Uno Grazie Così almeno Ci portiamo avanti Il sim proprietario Ti ha mandato 24 simonium Per scusarsi Del disagio Eh Perché in realtà Certo È disagiante Ragazzi Tutto ciò Eh Io ve lo dico Tanto è venerdì Tra un po' Andremo anche A lavorare Qua Non c'è niente da fare Per ora E l'ho mandato A lavorare Intanto Stavo pensando Di cambiare lavoro Che ne pensi Sì Ci può stare 88 Ragazzi abbiamo 793 Siamo poverissimi Vai a farti pure Una doccia E qua vediamo Se incontriamo Ania Voglio incontrarla Ragazzi a giro Anche solo per Peldra Vieni pure Vieni pure Mia sorella Vieni a trovarci Dicevo ragazzi Vorrei cercare Ania Anche solo per In vita ad entrare Dicevo Anche solo Per consolarla Vediamo un po' Eh Se Peldra Sta da queste parti Ok Eccola Farei qua Ovviamente Amichevole Affetto Abbraccia Perché Giustamente Mia sorella Che è stata vicina In realtà Prezza il forte legame Con Peldra Eh sì Eh sì Vai a casa Intanto Va bene Uh il proprietario Invita ad entrare Ci sosteniamo Nella buona E nella cattiva Sorte Bello 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 Prego Invita ad entrare Eh per forza Quanta gente Viene a trovarci Però Io vorrei chiamare Possibilmente Ania Ok Voglio sapere Come sta Eh Povera Ed è sempre triste Quindi Prova a rincuorare Discuti degli interessi Consola per la morte Ripeto Siamo tutti e due Nella stessa barca E anche lui Poverino Sta male Infatti Lei è molto molto triste Entusiasmati Per gli interessi Discuti di cambiare quartiere No Parla di cucina Fa un discorso esortativo Poverina ragazzi Mi dispiace Davvero per lei Racconto una storia buffa Magari riusciamo Un attimo Colpo d'anca Chiamo di renderla Un po' più allegra Possibilmente Eh Interessi Discuti degli interessi No Chiacchiere Che fai impara a conoscere E altre scelte Amichevole Interessi No Chiacchiere Vediamo un po' Controlla come sta Ania Eh sì Ci serve ragazzi Capire Capire un po' Come sta Ania Eh guardate Ci abbracciamo Eh intanto Tutti vanno via E Vai qui È ovviamente Loro poveri In realtà Uh ma fermi Abbiamo sbloccato Con Ania Un senso di vicinanza Amicizia In occasione Di perdita Amicizia In un'occasione Loro si sono Molto avvicinati Per colpa Di ciò che è successo Lei ora è felice E Kiros In realtà Prende Una sbandata Nel senso che Eh Purtroppo Lui Pensa A sua moglie Ma la vicinanza Con Ania Cioè in questo periodo Loro sono stati Davvero Molto vicini Si sono consolati Rispettivamente Per la morte Dei coniugi E quindi in realtà Scappa Scappa Complimentati L'aspetto Ragazzi Loro Non sanno neanche Cosa sta succedendo Non sanno davvero Neanche Cosa sta succedendo E Succede quello Che non deve succedere Loro si sono avvicinati Per Cercare una soluzione Per portare in vita I loro coniugi E invece Scoprono questa vicinanza Dirompente Stravagante E Per una volta Dopo il matrimonio Kiros Non pensa Per un po' A sua moglie Ma pensa A lei Ovviamente Qua c'è da raccogliere Tutto E da nascondere La relazione Ai nostri Parenti Perché E' una roba Che non dovrebbe Succedere Invece Sta succedendo Ecco Ed è una cosa Un po' così In tutto ciò Io venderei Tutte queste robe 144 Oh Finalmente un po' di soldi Intanto lo mandiamo a letto Ed è Venerdì Oh bene Qua però Secondo me Il problema Si è un po' risolto E dei rifiuti Da solo Perfetto Perfetto Intanto sta dormendo Qua possiamo anche Mangiare qualcosina Possibilmente Intanto lo lasciamo riposare Un po' però Anche perché domani dovrà Riandare Giustamente A lavoro Quindi vado a far così Lo faccio mangiare E Apri Io farei di nuovo Il volume 1 Di manualità Così almeno Ce lo leggiamo Va Fintanto che facciamo tutto Così almeno lui si diverte Allo stesso tempo Aumenta l'abilità Che sempre serve Anche perché siamo quasi A livello 2 Di manualità Quindi siamo messi bene E qua Kiros Devi Decisamente Far tutto Eh Far tutto Bravo Kiros Abbi pazienza Ma ci serve E soprattutto Poi Dobbiamo Occuparci del giardino Per il giardinaggio Immagino che la carriera nuova Quella di Factotum Ci richiederà appunto Di massimizzarle Entrambe Il che Può essere ottimo Può essere ottimo Intanto vai pure in bagno Molto bene Intanto continuo a leggere Bravo Se arriviamo a lavoro Già con livello 3 Tanta roba Lo mandiamo a lavorare Tra un'ora Bene Livello 3 Ottimo Quindi vediamo un po' Eh Raccogli tutto Ti prego Se mi raggiungi anche Il livello 2 Perfetto Siamo vicini Al livello 2 Di giardinaggio Eh Signori Siamo vicinissimi Eh Va lavoro Quasi Perfetto Vabbè Non so se ci daranno Già la promozione A livello 2 Vedremo Vedremo Anche perché In realtà Immagino di dover fare Anche il giardinaggio Intanto Miriam Ok Ha ottenuto Il nuovo lavoro Molto bene Siamo tornati da lavoro Abbiamo 1000 simoleon Qua Non possiamo fare altro Beh Qua possiamo In realtà Raggiungere il livello 10 Facilmente 1 2 3 4 Perfetto E tutte queste Me le pianti Così almeno Siamo tranquilli Sì Perfetto Eh Ci sta Quindi queste Le vendiamo Le cipolle Guardate 300 Eh Buono 300 si muovono al giorno Per le cipolle E tanta tanta roba Il nostro Kiros Però ha bisogno Di una doccia Eh Lo mandiamo un attimo A far la doccia Lo mandiamo un attimo Poi a mangiare E qua io farei Accendi il bollitore Perché no E vediamo di Prenderci una bella Bevanda Vediamo un po' Cosa possiamo Prendere Caffè Possiamo prendere Beh il caffè ci sta Che siamo assonnati Secondo me ci può stare Oh Caffè Facciamo un bel Oh Guardatelo E questo dovrebbe Sì Aumentare Un attimo Il bisogno di sonno Perfetto E a questo punto Io andrei A visitare La nostra Ania E bussiamo Alla porta Speriamo Che Ania Sia a casa In vita Nell'otto attuale Ma non c'era Beh Intanto arriva Per fortuna Ok E anche qua Io accenderei Il bollitore E Eccola Eccola Ok Possiamo entrare qua Chiacchiera qui Chiacchiera qui perché Loro si sentono in colpa Ragazzi Stanno in realtà Vivendo una sorta di Sbandata Clandestina E questa cosa Un po' Li triggera tanto Eh Li triggera tantissimo Chiacchiera qui dentro Casa Eh Il suocero E come la va Ok Grazie Io qua Andrei Ma perché Vi prego Uh Ciao Peldra E ovviamente Vivono qua di fianco Loro E lui Potrebbe usare Il vc Grazie Siamo alla porta Vediamo un po' Ok Uso il vc Velocemente E Ania Sta qua E Ania Pensieri Profondi Conversazione Profonda Arriva 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 qui Vi faccio vedere Anche la camera Da letto Eccola qui Le è soddisfatta E qua però Succede Quello che Non deve Succedere In realtà Loro Continuano a Vivere Questa Relazione Questa Relazione Baccia E Succede L'impossibile In realtà Loro Eh Guardate un po' Eh Guardate un po' Loro due Hanno una scappatella Ormai Nel dolore Si sono uniti E Sta succedendo L'imprevisto Sta succedendo L'impossibile E questa cosa È un bel guaglio Il nostro Kiros Quindi Come vedete È in realtà Dorme su un letto Che non è il suo E Però Qualcosa dovrà pur succedere A questo punto Decide di dormire Resta a dormire Da lei E fa anche Una porzioncina Per entrambi Di cena E ragazzi Cucina anche la cena E Beh È domenica Lui non andrà a lavorare Domani Ma lunedì Dovrebbe essere promosso E intanto Accende questo E Semplicemente Decide di fare Intanto Un cambio abito Vi prego Ma decide di fare Una cena Con Ania Anche lei ha fame Quindi Vediamo un po' È diventata una buona amica Di Kiros E non solo amica In realtà E loro due Come vedete Stanno cenando insieme Stanno cenando insieme Tanto che Lui Probabilmente Dovrà andare Da sua sorella E confessare Ciò che sta succedendo Come vedete Loro due Ormai Loro due Ormai Sono Pazzi L'uno Dell'altra Guardate che bello Con l'inchino Anche Io intanto Sto facendo Un sacco di screen E semplicemente Sono le sei Del mattino Lui Va qua Ovviamente A raccogliere tutto Per il giardinaggio Guardate Quanta roba Per fortuna Diventeremo ricchi Oh bene bene E poi devi fare anche Annaffia tutto E poi andiamo A parlare con Peldra Certo che gradisce Il giardinaggio E come Ci sta tutto Ci sta tutto Lui deve andare in bagno Per fortuna I bagni Li abbiamo anche Qua nella zona comune Quindi Aspettate Che vado Un attimino in bagno Grazie E poi Appunto Come vi dicevo Lui dovrà raccontare A sua sorella Quello che è successo Quindi Visita l'unità abitativa Assolutamente Questo lesplay ragazzi Si è trasformato Un po' Siamo partiti Con un bel matrimonio Fatto per bene Per poi In realtà Ritrovarci Vedovi entrambi Quasi come se fosse Il destino Che voleva metterli insieme Quindi io sto seguendo Il flusso Della storia Spero ragazzi Vi stia piacendo Fatemi sapere qua sotto In commenti Che ne pensate Di tutto ciò Che sta succedendo Se ve lo aspettavate Credo di no Come me Però C'è da capire C'è da capire Intanto Peldra Ok Sta qui E allora a questo punto Io chiacchiererei Spettegola sui vicini Imito a un membro Della famiglia No Facciamo Racconto una storia Sconvolgente Che è quello poi Che è successo Quindi Peldra Grazie Eccoci qua Dobbiamo raccontare Ciò che sta succedendo Peldra Senti Io mi sto impegnando Per riportare in vita Mia moglie Ma è successo Che hai visto L'incidente di Bill È stato improvviso Tanto quanto quello Di Leila e Ania Ci siamo avvicinati All'improvviso Lei ovviamente Dice che Aveva notato Un piccolo cambiamento In lui Ma che non pensava Si trattasse di questo Anzi E che Non lo giudica Dal momento che Deve solo capire Se questo sentimento È dato dal dolore Di aver perso i coniugi Oppure Se c'è qualcosa di più E quindi E quindi solo per questo Si dovranno Riscoprire Si dovranno Riscoprire Insieme Entrambi Lui e Ania Prima di dire qualcosa La nostra Peldra Suggerisce A Kiros Di pensarci bene Prima di far Delle robe Eh infatti Arriva poi lei Loro due ovviamente Fanno finta di niente Lui si beve Un drink Qua in piscina E continua a chiacchierare E fanno finta di niente Perché Sarà un bel colpo Anche per i genitori Dire quello che sta succedendo Eh Non sarà semplice Però ci proveranno Ci proveranno E ovviamente Il nostro Kiros Beh intanto Può vendere Grazie Ragazzi Stiamo campando Con Il giardinaggio Pensate un po' Dicevo Il nostro Kiros Chiama Ania Però Kiros Vorrebbe Andare Ovviamente A casa Di Peldra Anche per passare Un po' di tempo Con Emi Con sua nipote Anche perché Il tempo corre Il tempo passa E si sta perdendo Dei momenti Ma tutto ciò Che è successo Vabbè L'ha un po' distratta Eh Io busterei alla porta Posso Vai qui insieme Eccolo Fatemi vedere Emi Dove sta E sta la piccola Emi Oh mio Dio Eh intanto guardate Che loro vanno Oh mio Dio Spero Non ci sia niente di strambo Con Ok Blocca la visuale Oh ma Emi Stava qui Tenera Lei Spettate Rallegra Prendi un braccio Leggi un libro Per il bebè Assolutamente Sì Vediamo un po' Cambia abito No Amichevole Storie No Attività Insegna a parlare Che bello Guardate un po' La nostra Emi Che è cresciuta Carina Carina lei E ci sta che lo zio Passi un po' Di tempo con la nipote Eh beh ci sta Guardate un po' Affascinata Vicina E nipote Bello Bello E arriva anche Ania E a questo punto Lui Probabilmente Chiederà ad Ania Di andare A giro E credo si prenderanno Una serata Ragazzi In quel di Tomarang Per conoscersi meglio Voglio vedere Giustamente Il tutto E sì Beh loro ormai E loro ormai Aiuto E loro sono Pazzi L'uno dell'altra Per forza E la Succede Lei intanto è sicura Ordinata E gelosa Come tratti Però Probabilmente metterò Quelli nuovi Perché non immaginavo Ragazzi Che sarebbe andata A finire così Ma capiremo Capiremo Qua intanto Devi estirparmi Le erbacce Sono le 14 Io Beh Direi che Mi potrei cambiare Esatto E chiamare Ovviamente Ania E prepararci A passare L'intera giornata E nottata Magari andiamo insieme Al mercato di Tomarang Insomma Proviamo a passare Un po' di tempo insieme Anche per capire Appunto Se questa storia È qualcosa Di passeggero Una chimera Una svista Un abbaglio Oppure c'è qualcosa di più Quindi Prepariamoci Per quello Che sarà effettivamente Un vero e proprio Appuntamento Intanto qua Lascio dell'incenso E un frutto Sperando che appunto Questo mi porti Felicità E tranquillità E ci prepariamo Per l'incontro Di questi due Per questa seconda parte Ragazzi Io vi dico Che è tutto Spero vi stia piacendo La storia Fatemi sapere Nei commenti Che ne pensate Io vi ringrazio Vi saluto Vi do l'appuntamento Alla prossima E vi dico Ciao a tutti Grazie 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 a tutti